bella raga e benvenuti in questo nuovo video dopo del tempo che non pubblico più niente perché mi ha dato un figlio quindi me lo sto godendo il tempo è davvero poco quest'anno infatti moto ci sono andato veramente poco i lavori hanno fatti veramente pochi e il canale rimasto un po ferme questo mi dispiace però giuro che recupero raga giuro quindi vi ricordo per supportarmi di iscrivervi al canale qua sotto ora mi è uscito questo video che vi farò vedere perché qualche settimana fa ho avuto dei problemi alla mia cuga la 2.000 tdci 163 cavalli 4x4 mi è partita una guarnizione di tenuta del terzo iniettore che io ho cambiato tutti e quattro ho tirato via tutti e quattro e l'ho cambiata il problema che poi tramite la centralina dava che intasamento fap e cilindro 2 cilindro 3 mal funzionamento quindi gli iniettori erano tappati e visto che la revisione degli iniettori costava più che comprarli nuovi praticamente ho trovato il mio amico dead ricambi che mi ha trattato davvero davvero bene ho comprato tutti i pezzi nuovi da loro e mi arrivano in questi giorni quindi oggi il video che vi farò vedere è lo smontaggio degli iniettori della cuga andremo a togliere il flauto andremo a togliere tutti i tubetti io qui avevo già cambiato che adesso poi vi farò vedere tutti i tubi del ritorno del gasolio che si erano sciolti e il coperchio degli iniettori che si era bucato perché il terzo iniettore spruzzava il gasolio fuori quindi raga vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi e non lasciarmi morire così beh no scherzi a parte andiamo a lavorare adesso allora raga eccoci qua innanzitutto vi presento che farò poi giuro il video di presentazione non c'è più l'R1 come avrete visto ho preso la tracer che ho usato un po' però come vi dicevo prima con un figlio il tempo è stato poco questa è la mia tracer 2018 una bella bombetta comunque mi piace davvero tanto poi ve la farò vedere meglio adesso parliamo della cuga allora la cuga come vi dicevo ho avuto un problema sugli iniettori qua c'era il coperchio di iniettori che adesso ce l'ho là posizionato si era bucato c'era un buco grosso qua così e niente praticamente tutta sta roba qua era marcia sti tubi qua che sono il ritorno del gasolio erano tutti andati e ho ricomprato tutto nuovo visto che il problema poi non è stato risolto quindi iniettori ho dovuto comprare i nuovi adesso andremo a togliere tutto per prima cosa ci serviranno comunque delle chiavi una da 17 ci servirà una brugola da 5 se non erro male da 6 scusate per togliere le forchette e poi ci serviranno a 13 per togliere i dadi del flauto quindi niente raga direi che possiamo metterci al lavoro allora per prima cosa raga andremo a togliere gli spinotti basterà qua ci sono delle clip basterà tirare verso l'alto la clipetta che c'è qua e toglieremo il primo il primo spinotto sono incastrati qua tramite delle altre clip e niente e qua stessa cosa tiriamo su e togliamo la clip del sensore del flauto adesso tolto ci mettiamo un po' da parte sta roba qui qua togliamo tutta questa cosa lavoriamo un po' meglio e qua viene un'altra parte bella delicata perché ci sono queste caspita di spinotti sugni iettori che hanno delle mollette e ora vi farò vedere come levarle ok raga tolto tutto il sistema del ritorno del gasolio tramite queste clipette verdi qua vanno tirate verso di voi quindi indietro state molto attenti perché è plastica quindi attenti e vengono via molto facilmente ce n'è cinque una, due, tre, quattro e cinque e una è attaccata qui ok e quindi la prima parte facile l'abbiamo fatta adesso andremo a togliere queste bellissime clipette qua perché abbiamo molto più spazio adesso per togliere le clip dell'alimentazione degli iettori e tramite questa bisogna schiacciare questa vedete che ci sono due alette qua bisogna schiacciarle e si aprono le due alette lì e vengono via ok ora non so se riesco a farlo con la telecamera ma ci proviamo allora raga quello che potete fare per togliere gli spinotti in modo più comodo è una pinza a becco lunga la mettete così schiacciate bene e via e qua ci mettete un attimo facciamo la stessa cosa di qui spero che si veda bene ok adesso ragazzi cosa che dovremmo fare chiave da 17 e toglieremo i tubi che vanno sull'auto che vanno su ogni iniettore dal flauto vanno all'iniettore che poi in realtà lo chiamo flauto ma in realtà è il distributore quindi andremo a fare prima questo e poi andremo a togliere con i diali a 13 andremo a togliere il flauto il distributore che sia ok smontate la parte che va sull'iniettore qua ci dobbiamo andare ancora un po' e dovrebbe venire via anche questi ragazzi quando io l'ho smontata la scorsa volta voi non l'avete visto ma era uno schifo qua dentro c'era tutto di più c'era tutto di più adesso lo vedete bello pulito anche qua dentro vedrete che c'è tutto pulito si vede all'alluminio ma l'altra volta non si vede più niente era tutto incrostato tutto marcio brutto va bene tolgo questi 4 ci viene tra poco una cosa che mi sono dimenticato ragazzi prima di mollare tutte le viti eh scusi tutti i dadi del flauto prima quello da 17 se no poi vi viene difficile levarlo ok raga tolto il distributore il flauto come lo vogliamo chiamare adesso ci sono queste brugoline da 6 bisogna togliere per togliere le forchette che tengono gli iniettori poi in questo caso i miei verranno via probabilmente così perché sono stati già puliti ho dentro ho già lesato tutto pulito tutto l'altra volta quindi non dovrebbe esserci rumenta che tiene gli iniettori incrostati lì in più avevo pulito anche gli iniettori però se no dovete avere un estrattore per i iniettori che viene avvitato qua e dandoci dei colpetti viene via perché l'unica cosa che tiene il iniettore fermo alla sua sede oltre ai porti iniettori che sono dei cosetti di plastica che ci sono sull'iniettore che servono solamente a non far locciare in realtà il iniettore poi ci vuole un estrattore apposta per togliere gli iniettori a meno che non vi inventate qualcos'altro vedete voi però servirebbe un estratore la cosa migliore per fare un lavoro pulito e serio è un estratore ok raga vedete bruola da 6 ho già mollato e e già si muove adesso lo facciamo su tutti e le leviamo allora vedete ragazzi questa qua è la forchetta non costano granché perché costano 10 euro in Ford però queste qua non funziona di tenere l'iniettore il discorso è questo uno dovete stare attenti quando stringete il dado vanno stretti a mano raga ok a mano quando sentite che diventa duro vi fermate perché uno se stringete troppo si spacca la forchetta uno per la forma che ha la forchetta come potete vedere c'ha un po' di scalino si spacca la forchetta e finché si spacca la forchetta vabbè costa 10 euro pace se si spacca il dado dentro è un casino della miseria quindi mi raccomando a fare questi lavori fatelo solo se siete se sapete cosa state facendo io ve lo faccio vedere ma mi raccomando ok ragazzi qui come potete vedere adesso ci sono gli iniettori che si muovono non so se dal video ho riuscito a vederlo questo già si muove di più quindi verrà vedete questo qua è già venuto via quindi questo ricordate sempre di mettere tutto in ordine se li rimontate ok vediamo se è venuta via la ronda di rama è qui mi raccomando state attenti se posso perché se la rondella rimane dentro dovete avere una calamita per tirarla fuori ok ragazzi e adesso vedete che io ho fatto un foglio ho fatto 4 fogli con scritto 1,2,3,4 ora a me non serve in realtà perché l'ho fatto solo per farvelo vedere perché in realtà io mettendo dei nuovi poi i miei vanno codificati in centralina quindi il discorso è completamente diverso però vedete qui vedete è tutto bello pulito l'altra volta io c'avevo tutto tutto sporco marcio l'ercio ho dovuto grattare via tutto ci sono dei prodotti molto validi che mi ha consigliato da dei cambi che devo dire la verità mi hanno aiutato a sciogliere tutta la rometa che c'era lì dentro però come pulizia contate che ci ho messo due giorni a pulire tutto perché io poi non volevo avere nessun tipo di sporco dentro e quindi ci ho messo circa due giorni e mezzo a pulire tutta la gruccia che c'era dentro ok raga gli iniettori li ho tolti tutti e per fortuna essendo che dentro il ragiotto bello pulito perché ho pulito un'altra volta a togliere è stato semplice per voi se avete avuto problemi di questo tipo vi auguro buon divertimento perché è un bel lavoraccio l'unica cosa che c'è da fare poi è pulire quando togliete gli iniettori è pulire l'interno se è tutto grucioso brutto marcio vi assicuro che i miei erano veramente veramente incrostati dovete togliere questa cosa qua quindi contate che adesso lo vedete così ma quando io l'altra volta ho avuto problemi qua c'era tutto 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 incrostato tutto marcio ma c'era della roba che era lì probabilmente da tempo e vede che era tipo così per il qua è rimasto un po' devo pulirlo ancora vedete questa qua è tutta gruccia che se io vado a togliere col dito è incrostata quella lì in realtà è incrostazione che si potrebbe pulire cosa che farò sicuramente comunque il discorso è questo adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa allora questi sono gli iniettori in questo caso per voi se poi rimontate gli stessi ricordatevi o rimanete a revisionare ricordatevi innanzitutto questo iniettore che è stato già pulito quindi tutta la parte diciamo che vedete nel cilindretto è diversa perché l'altra volta era tutti tutti sporchi questo qui di plastica è il porta iniettore cosa che io ho comprato tutto nuovo iniettori porta iniettori nuovi e e le rondelle di nuovo nuove perché ogni volta che si montano gli iniettori le rondelle poi vanno cambiate anche se queste qua sono nuove ora sono tutte un po' sporche perché erano dentro ma erano state già solitute l'altra volta comunque se potete vedere il problema che viene sugli iniettori è sulle punte sulle punte ci sono dei microfori che spruzzano a gasolio in questo caso se guardate se si capisce bene dal video ora vediamo se ci mettiamo magari più alla luce sono tutti sporchi incrostati questi non si possono pulire in nessun modo perché se lo facciamo con la spazzola rischiamo che i buchi si tappano in questo caso lo saranno già ma per esempio guardate questo vi faccio vedere un'altra cosa guardate questo qua pensate se l'esterno è così l'interno di questi poveri fori come sarà quindi questi qua andrebbero poi revisionati ma in questo caso io ho preferito comprarli nuovi e basta ok raga il discorso è questo quindi se voi rimontate i vostri mi raccomando segnatevi quale iniettore è perché nell'iniettore allora nei miei non credo si vedano più però ci dovrebbero essere dei codici dove forse qua ok qui questi codicini che ci sono qua sopra non so se li vedete se non sbaglio ma dovrebbe essere così vanno sono tutti registrati in centralina codificati in centralina quindi il 2 va col 2 il 3 va col 3 il 4 va col 4 e l'1 va col 1 non si può cambiare il verso ok raga adesso io ho messo tutto in ordine diciamo distributore flauto con tubi di ritorno di gasolio gli iniettori i miei vecchi 1,2,3,4 anche se non servono più e aspetto domani che mi arrivano i nuovi per montare tutto in più mi deve arrivare il def-up poi la porteremo da gazzale e la faremo mappare perché almeno non ho più problemi di queste cose qua ok raga il video termina qua spero che il video vi possa essere utile nello smontaggio degli iniettori mi raccomando se no vi sentite di fare questi lavori non li fate perché sono cose che comunque potete fare altri danni quindi fatelo solo se siete sicuri di quello che state facendo se siete competenti con la meccanica non mettete a farvi lavori del genere perché rischia di fare danni grossi quindi mi raccomando io ve li faccio vedere perché mi fa piacere portare questi contenuti nel canale però state molto molto attenti quindi ragazzi niente io adesso ho messo i fogli con flauto e i tubi del ritorno del gasolo insieme 1,2,3,4 e aspetto domani che mi arrivano i ricambi per il montaggio poi probabilmente farò il video del montaggio quindi se vi va lo andrete a vedere fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti